Evolve la condizione del Cagliari in vista della stagione che conta e nell'ultimo test contro il pur fragile Budoni non sono certo mancate le trame di buon gioco capaci di portare dentro l'area sono i bomber che hanno le polveri bagnate dall'umidità estiva un sintomo che può essere questione di lana caprina affinché non si porta dentro l'aspetto psicologico che per un attaccante è di fondamentale importanza nel primo tempo dell'amichevole di Villacidro Matri e Nenè occasioni per segnare ne hanno avuto tante ma il gol è rimasto sconosciuto non certo perché i due non si siano prodigati nella ricerca ma piuttosto per qualche centimetro tiranno quelli che stabiliscono il porto franco tra gioia e dolore una traversa del brasiliano, un gol annullato e un salvataggio sulla linea a danno dell'attaccante di Sant'Angelo Lodigiano dato finale che il solo gol del primo tempo è stato firmato da Barone che lascia spazio quindi per crearsi qualche pensiero di troppo a differenza di quanto accaduto nella ripresa forse meno occasioni ma più gol come è capitato anche in precedenti uscite e a rendere prolifica la squadra due nomi su tutti Geda e Gallon se il primo non è certo una sorpresa e mostra addirittura di crescere ancora il 17enne ha fatto tutto ciò che serviva per ritagliarsi la dovuta considerazione è lo spazio che rischia di non esserci se rimangono così tanti concorrenti per il reparto avanzato discorso centrocampo in attesa di Brajica Simone Barone è risultato convincente ha iniziato quasi con imbarazzo ma con il passare dei minuti ha preso confidenza spiccando nel fraseggio e negli inserimenti sembrano addirittura a suo agio in un ruolo in cui può esprimere la fase offensiva aspetto che gli è stato amputato nell'esperienza con il Torino e poi ancora un giovane Enrico Cozza ottimo il suo comportamento nel ruolo di interno a destra elegante e pulito puntuale nel cross ha dimostrato di poter stare nel gruppo al pari e anche di più di precedenti esperimenti ora la Coppa Italia si cambia sede e si giocherà a Trieste di domenica e non a Sant'Elia un Cagliari sgusciante e imprevedibile come vorremmo lo fosse in campo